Era ai domiciliari ma spacciava. El Asbahayo Ayman, ventenne che vive a Vicenza, è stato arrestato dai carabinieri della città america, in quanto l'uomo, pur ai domiciliari da dicembre, ha continuato la sua attività illecita. I carabinieri sono entrati nella sua abitazione per una perquisizione ed hanno rinvenuto nell'immobile 85 grammi di ascis e 14.390 euro in contanti, già divisi in mazzette. I soldi sono stati ritenuti essere proventi dell'attività illecita. L'uomo è stato così denunciato e trattenuto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. Sempre in tema di stupefacenti ed insicurezza sociale, le forze dell'ordine di Vicenza hanno dato corso ad un blitz in varie zone della città per contrastare l'illegalità. Le aree a rischio vanno da Campomarzio a Via Gorizia, da Viale Milano, alla strada Bertesian. Il questore Paolo Sartori ha comunicato che l'operazione è volta a contrastare la sensazione di insicurezza dovuta anche a furti e microcriminalità. Siamo venuti insieme qui per Telecittà a verificare questa notizia qui a Vicenza, perché questa notizia risulta molto interessante non soltanto per la comunità berica ma per tutta la realtà del Veneto. Sono state controllate 103 persone, di cui 25 stranieri e 32 con precedenti, ma anche 9 autoveicoli e 3 esercizi commerciali. A Campomarzio è stato rinvenuto un nigeriano di 36 anni su cui pendeva un ordine di arresto per spaccio. Sono stati revocati 3 permessi di soggiorno contro cittadini nigeriani ed albanesi in quanto autori di reato come violenza sessuale, stupefacenti, favoreggiamento della prostituzione.